Noi come Transform e come Transform Europa stiamo provando anche a costruire relazioni tra quello che abbiamo, tra diverse testate, giornali della sinistra in Europa, perché pensiamo che la soluzione non possa essere quella di avere una dimensione nazionale, ma provare a costruire un'opinione pubblica della sinistra in Europa a livello europeo. E quindi chiedo ad Alessia di venire qui e raccontarci un po' quello che stiamo facendo anche su questo terreno. Ciao a tutti e tutti, appunto io sono Alessia Gasparini e sono la coordinatrice di Media Alliance, che è un progetto che è nato nel marzo del 2021 dalla collaborazione tra Transform Italia e Transform Europe, che ha un obiettivo ben chiaro, che è quello di formare un'opinione pubblica di sinistra, che non sia solo nazionale, ma che abbia un carattere europeo, perché questa è una necessità che, diciamo, si è mostrata sempre più stringente, soprattutto in tempo di pandemia. L'idea di fondo che abbiamo, appunto, è che è necessario avere a che fare con un'opinione pubblica europea, che possa comprendere profondamente la politica delle varie nazioni, senza che l'influenza del neoliberismo rampante che c'è in tantissimi posti, li influenzi negativamente. In più, avere a che fare con dei cittadini che sono davvero informati su cosa accade in Europa, significa avere il potere di presentarsi come contrapeso politico al potere delle istituzioni europee e della Commissione. Quindi, diciamo, è anche un'arma a nostro favore, se così la vogliamo chiamare. Il progetto è stato creato con la ferma convinzione che avere un'opinione pubblica europea formata negli ideali di sinistra sia qualcosa di fondamentale proprio per la democrazia e la politica dei tempi in cui viviamo. Perché ormai tutte le questioni più importanti si decidono a livello europeo, che siano sociali, politiche ed economiche. Quindi, alla domanda come fare appunto per creare questi strumenti, abbiamo risposto creando Medial Alliance, che è, come diceva già Roberto, una rete di testate di giornalisti e giornaliste che operano nell'area della sinistra europea e che cooperano appunto per creare questa opinione pubblica di cui abbiamo bisogno, ponendo come base il diritto fondamentale al multilinguismo. perché crediamo che essere informati nella propria lingua e non dover necessariamente ricorrere all'inglese sia importante per poter appunto partecipare al dibattito e farsi una propria opinione. Allora, la nostra rete si basa su due tipologie di attività principali. Allora, i dibattiti nella forma di eventi pubblici oppure di tavole rotonde o di confronti, insomma, tra noi, ma soprattutto si fonda sullo scambio di articoli tra bari e testate, che li pubblicano traducendoli nella lingua del proprio paese. Quindi, grazie a questa rete, lettori greci, per esempio, hanno potuto conoscere il punto di vista dei giornalisti e delle giornaliste italiane e polacche, i polacchi degli italiani, dei tedeschi e così via. Quindi, diciamo, non avere un punto di vista di un giornalista del proprio paese, ma direttamente del posto di cui si sta parlando tradotto nella propria lingua. Comunque, se volete vedere come funzionano questi scambi, abbiamo anche un sito web che si chiama european-media-alliance.eu, dove ci sono tutti quanti gli articoli che sono stati scambiati. Per quanto riguarda l'Italia, i nostri punti saldi sono Transform e Left, che, insomma, sono settimanali. Transform, vabbè, lo conoscete tutti, non ve lo devo spiegare io che cos'è. I collaboratori di Transform e giornalisti di Left, appunto, sono molto attivi in questa rete. E gli altri giornali che ne fanno parte sono Avghi, della Grecia, Epochit, sempre della Grecia, Eschiere da Punto Net del Portogallo, L'Humanità della Francia, Mundo Brero della Spagna, Noi Deutschland della Germania, Solidare del Belgio, Strec.eu, che è della Polonia, e appunto i collaboratori anche non solo di Transform Italia, ma anche di Transform Europa e di tutte le varie diramazioni di Transform. Quindi siamo un sacco e siamo molto attivi. Per quanto riguarda le iniziative, a oggi abbiamo in programma un importante incontro sulle elezioni francesi in collaborazione con l'Humanità, di cui sapremo presto maggiori dettagli, anche perché ancora non sappiamo come finirà, quindi speriamo bene, ma lo sapremo dopo domenica. Fino adesso, insomma, abbiamo realizzato cinque iniziative di carattere sia pubblico che privato. Abbiamo iniziato tutto con un meeting preparatorio il 9 aprile del 2021 e poi abbiamo presentato al pubblico Media Alliance il 7 maggio dell'altro anno. E da là appunto siamo partiti alla grande, perché lo scorso dicembre abbiamo realizzato due iniziative importanti. Una che era un dibattito sulla Polonia e sulle sue relazioni con l'Unione Europea in merito a temi come immigrazione, questioni di genere e valori democratici, fatto in collaborazione con i giornalisti di Strike, che era appunto a dicembre era un argomento caldissimo, quindi è stato un dibattito molto acceso. L'altra iniziativa che abbiamo fatto sempre a dicembre è stato un momento di riflessione sulle sfide che ci avrebbe presentato il 2022 all'Europa e ha coinvolto tutta la rete. In quell'occasione abbiamo presentato anche un calendario fatto in collaborazione con Transform Europe. Se trovate lì all'ingresso. Ok, esatto, così potete capire subito di cosa farlo. Ecco, abbiamo anche una valletta che ce la fa vedere. Un balletto. Appunto in questo calendario abbiamo esplicitato i nostri auguri, se così li vogliamo chiamare, di avere un'Europa migliore nell'anno nuovo, quindi di avere giusti salari, il diritto alla cittadinanza, il diritto a un clima più sano, una riduzione degli armamenti nell'Unione Europea, la riduzione del gender gap, diritto di accesso alla sanità, anche in correlazione ai brevetti sui vaccini del Covid, che appunto sono qualcosa di centrale ancora nel dibattito. Oltre all'iniziativa sulle elezioni francesi che vi anticipavo, sono in programma anche un dibattito sulla Spagna, è una tavola rotonda con tutti i giornalisti che avverrà presumibilmente dopo l'estate. E sempre dopo l'estate, a settembre, stiamo cercando di organizzare un evento di Media Alliance all'interno del Festival dell'Umanité, che si viene a Parigi tutti gli anni, quindi sarebbe, insomma, un bel risultato. E a proposito di risultati, mi avvio a concludere menzionando due successi che abbiamo ottenuto, quindi passiamo alle cose divertenti. Abbiamo partecipato alla consultazione europea sul futuro dei media con un documento pubblico redatto da noi e in più di recente siamo stati eletti vincitori di un bando della Fondazione Enop, quindi ci elargirà dei fondi per creare una raccolta di articoli che attraverso tematiche fondamentali come la pace, la pandemia, l'ambiente, le migrazioni, l'economia e le questioni di genere esprimerà appunto il nostro desiderio e il nostro obiettivo di creare questa opinione pubblica che sia veramente europea. Grazie, non vi rubo altro tempo.